Ciao cari amici, purtroppo come avete visto quando da qualche parte il sistema anglosassone sta perdendo una guerra, sta diciamo avendo le difficoltà nelle proprie speculazioni geopolitiche, comincia subito a cendere delle micce nelle situazioni in altri luoghi, in altre parti del mondo perché per il regime anglosassone è molto importante continuare di gestire le guerre in giro per il mondo perché la gestione della guerra, le speculazioni attorno ai teatri bellici, le speculazioni attorno agli impianti bellici dei vari paesi, vendita degli armi, traffici, sostegno del terrorismo, sostegno di vari estremismi, sostegno a vari gruppi che si occupano di sterminio degli esseri umani come ad esempio succede con sostegno ai sionisti, sostegno all'isis, sostegno agli ucronazisti in Ucraina gestiti comunque dalla lobby ebraica dei sionisti, tutta questa struttura bellica è necessaria per gli anglosassoni perché loro non hanno un altro modo per sfruttare il mondo, per interagire con il mondo, non hanno creato l'alternativa io questa cosa lo dico sempre, cerco di attirare la vostra attenzione a questa tesi cari amici per quale motivo? Perché noi quando stiamo cercando di analizzare ciò che sta succedendo nel mondo quando cerchiamo di spiegare a noi stessi oppure a qualcuno che noi amiamo, qualcuno che c'è vicino semplicemente magari a dei nostri conoscenti e amici, quando cerchiamo di spiegare la nostra visione sul mondo e quindi cerchiamo di analizzarlo, noi dobbiamo partire dalle basi precisi se manca la base, se noi non conosciamo la situazione nella sua origine noi rischiamo di non comprendere, non capire tutto il resto quindi parlando di sfumature, parlando delle ombre non dobbiamo assolutamente rimanere, lasciare senza attenzione, perdonatemi l'oggetto che crea queste ombre oppure i colori che creano queste sfumature questo è molto importante, perché possiamo parlare per ore delle conseguenze di qualcosa ma se non precisiamo perché avvengono queste cose è come versare l'acqua da un bicchiere all'altro cercando in questo modo sperare un giorno di cambiare la sua essenza in realtà non succederà niente noi semplicemente prima o poi perderemo tutta l'acqua e non avremo raggiunto nessun risultato per questo motivo io sempre cerco di condividere con voi questa tesi una delle tesi maggiori, quella tra l'altro che di recente ha saggiamente approfondito anche Vladimir Putin presidente della federazione russa in una delle sue dichiarazioni quando lui ha parlato di gravi problemi del mondo lui ha spiegato, specificato che cos'è BRICS lui ha detto BRICS è un insieme dei paesi che si basano su un reciproco rispetto dove non c'è nessun leader, dove non c'è nessuna egemonia dove non esiste un vero e proprio sceriffo tutti interagiscono in base alle accordi e ai propri interessi tutti partono dal presupposto che tutti sono uguali piccolo, grande, ricco, povero, non ha importanza tutti devono partecipare a uno spazio geopolitico comune per mettere in gioco quello che possiedono poco o tanto, non ha importanza dare la propria disponibilità agli altri e ottenere dagli altri ciò che serve a questi paesi questo è un modo sano per interagire nel mondo moderno sullo spazio geopolitico non funziona più il discorso di dominio di un grande potere che sottomette gli altri che costringe gli altri a ballare sotto la sua musica e poi quando qualcuno non lo vuole fare si inventa una guerra, si inventa un pretesto per invadere si inventa un pretesto per punire pubblicamente dimostrativamente come ad esempio hanno fatto con Saddam Hussein in Iraq quando sono arrivati lì hanno distrutto un paese massacrato milioni di persone hanno impeccato il leader sovrano di un paese presentando tutto questo come una lotta contro il terrorismo ovviamente una cosa ridicola voi ricordate come questa storia è stata presentata all'epoca con Colin Powell che aggettava una provetta dove non si capisce cosa c'era lo sputo di stesso Colin Powell oppure una parte del suo cervello che lui ha soffiato per vie nasali noi non sappiamo, non sapremo mai probabilmente non c'è stato niente probabilmente è stata anche l'acqua che Colin Powell ha messo in questa boccetta mentre era nel bagno prima di salire sulla conferenza dell'ONU dove lui ha fatto questa sceneggiata però il problema è che quella boccetta lì quell'operazione Fasula, quella falsità ha generato milioni di morte, distruzioni, dolore problemi che ancora oggi ci sono nel Medio Oriente un enorme sistema di speculazione anglosassone che ha guadagnato miliardi su una guerra dove sono stati sterminati tantissime persone e alla fine ha portato grande destabilizzazione in un'area geopolitica importante che è Medio Orientale che poi funzionando come domino ha portato le instabilità nelle aree circostanti tutto questo per quale motivo cari amici perché come ha detto stesso Vladimir Putin il mondo occidentale non è stato in grado di trovare un'alternativa alla propria propulsione predatoria l'Occidente è legato ancora a questo vecchio sistema anglosassone sistema elaborato dai pirati quindi quando io dico che le anglosassone sono primitivi e degradati nel loro approccio internazionale io non sto scherzando e neanche voglio offendere qualcuno non è un'offesa razziale è proprio una caratteristica onesta e obiettiva di ciò che stanno facendo le anglosassone loro non portano il bene in giro per il mondo loro agiscono come i pirati loro assaltano loro fanno i raid economici, militari speculativi in giro per il mondo loro continuano a comportarsi da conquistatori da sfruttatori, da colonizzatori e finché esiste questa propulsione nel mondo anglosassone il mondo libero il mondo BRICS sarà sempre contro a questa situazione perché ci sono molti paesi che ormai si sono sviluppati hanno creato la loro identità moderna sono molto avanti dal punto di vista tecnologico culturale hanno già una diversa idea di se stessi loro non vedono se stessi come inferiori al grande padrone bianco grande padrone bianco può andarsi in quel paese per loro adesso cioè gli indiani, afghani, pakistani, stessi arabi oppure russi, oppure cinesi oppure anche nordcoreani ma se ne sbattono di quello che pensano americani, inglesi o tutta quella fecia pervertita che oggi si definisce ancora continua a definirsi il mondo civilizzato ma civilizzato dove? non può essere civilizzato uno che nel 2024 tratta gli altri esseri umani come subumani cioè un personaggio come Joseph Borrell che apertamente di fronte alle persone dichiara che l'Unione Europea è un paradiso mentre tutto il resto del mondo è una giungla selvaggia dimostrando la mancanza di rispetto nei confronti dei paesi dove ormai si vive un livello di vita che l'Europa Unita non raggiungerà neanche fra 10, 20, 30 anni cioè la Cina oggi ha raggiunto un tale livello tecnologico ci sono le città in Cina che voi non avete immaginazione neanche per comprendere in grande linea ciò che stanno costruendo io quando ho fatto il mio ultimo viaggio in Cina io ho passato diversi giorni in una città dove ormai si vive si vive, si sposta, si cammina si fa interazione si viaggia con metro, con treni ai livelli di 21esimo, 22esimo piano di palazzi di grattacieli hanno costruito delle strutture urbane delle strutture architettoniche che noi nella nostra vecchia Europa non immaginiamo neanche per noi è il futuro i nostri scrittori di fantascienza lo scrivevano 50 anni fa che il futuro sarà così noi ancora continuiamo a leggere e pensiamo sì forse qua in Europa così un giorno sarà ma in Cina è già questo futuro e noi continuiamo a chiamarli e trattarli come se fossero arretrati come se fossero lì sporchi, schifosi con una ciotola di riso per 20 persone e stanno lì a mano a fare lavori pesanti ma state scherzando Cina è ormai andata avanti certo ci sono pro e contro si può parlare molto sullo sfruttamento del lavoro su altre cose ma dal punto di vista tecnologico cari amici e della costruzione della società è un mondo diverso da noi non peggio di noi anzi per alcune cose anche molto meglio e quindi quando noi parliamo di questa incapacità dell'Occidente di trovare un nuovo percorso geopolitico un nuovo percorso che permette all'Occidente di progredire noi dobbiamo capire che questa è la principale causa di tutti i mali del mondo di oggi se non fosse per gli occidentali confusi che ancora credono di essere grandi colonizzatori e conquistatori che ancora credono di avere diritto di trattare gli altri come schiavi oggi il mondo sarebbe molto diverso sicuramente ci sarebbero molto meno guerre molto meno problematiche forse ci potevamo impegnare di più per migliorare le nostre situazioni economiche la nostra vita sociale la nostra cultura la medicina, istruzione e così via forse saremo diversi ma purtroppo esiste la realtà che si chiama capitalismo anglosassone che continua con il loro percorso in questa situazione cari amici le anglosassone come vi ho detto all'inizio di questo video aprendo un enorme parentesi mi rendo conto perdonatemi se io a volte faccio questi queste premesse che durano dieci minuti ma io cari amici leggendo i commenti di molti mi rendo conto che molte persone hanno bisogno che certe cose vengono specificate perché noi viviamo in un mondo dove la gente è stata abituata che per comprendere una cosa complicata bastano tre secondi questo non è vero da sempre le questioni complicate necessitano un'enorme quantità di tempo e non basta neanche mezz'ora di mio video per raccontare qualcosa io nei miei video cerco di attirare la vostra attenzione alle tematiche dare a voi delle indicazioni su dove scavare dove informarsi sperando che voi andate e poi fate un lavoro di approfondimento perché non basta neanche un video di mezz'ora per raccontare le cose complicate vi ricordo che nel Faust di Goethe quando il doktor Faust in certo punto parla con Mephistofele con il diavolo e gli chiede di rivelare la propria natura Faust vuole capire che cos'è cosa fa il diavolo qual è la sua natura e il diavolo gli spiega in modo molto preciso ciò che lui è solito di fare che cos'è lui lui dice io sono lui fa una serie di affermazioni su se stesso dice io sono quello che è venuto per sono quella forza che vuole sempre il male ma finisce a compiere sempre gli atti benevoli io sono quello che è venuto per portare la luce della ragione e così via e poi in certo punto dice sono colui che semplifica le cose complicate cioè è da satana è da diavolo farvi credere che una questione complicata può essere spiegata in tre secondi ci vuole tempo per questo io sono molto diciamo lungo nei miei discorsi cerco di approfondire cerco di toccare vari argomenti cerco di dare a voi più stimoli per la riflessione futura io mi immagino vorrei immaginare che voi dopo aver visto il mio video rimanete un po' a pensare a riflettere e magari iniziare ad approfondire ad informarsi ad andare a scoprire più cose perché cari amici ricordatevi nessuno riuscirà mai per voi a posto vostro creare l'opinione l'opinione dovete creare voi stessi ciò che possa fare io o può fare qualcun altro in maniera onesta è darvi diciamo lì impulsi di darvi presupposti di mettervi davanti a una serie di percorsi ma questi percorsi dovete fare voi stessi e bisogna diffidare di chi vi porta la verità sul piattino e vi dice ecco è così questo è male questo è bene e quindi dovete credere a noi e se non credete allora siete dei degradati così come ad esempio fanno il nostro mainstream i nostri giornalisti non vi raccontano più le notizie vi raccontano la verità che è una cosa sbagliatissima perché quando una persona ammette di raccontare la verità vuol dire che già si posiziona dal punto di vista di comunicazione non come un osservatore ma come un rivelatore e questo è molto pericoloso perché le rivelazioni oggi fa profeta Gesù Cristo Mohammed oppure Dio in persona attraverso gli angeli oppure noi umani non possiamo fare nessuna profezia cioè noi umani comuni perché noi non sappiamo neanche cosa succede con noi la sera stessa della nostra vita noi non possiamo costringere gli altri a abbracciare la nostra opinione ognuno deve creare la propria opinione da sole proprio per questo io sono così prolisso comunque cari amici nella mia premessa vi ho detto l'occidente è interessato di accendere tanti focolai per quale motivo si sta perdendo la guerra in Ucraina la guerra in Ucraina è un grande problema la guerra in Ucraina chiaramente non risolverà tutti quei problemi occidentali tutti quei problemi degli anglosassoni che loro hanno loro hanno bisogno di più guerre più focolai nel mondo per bloccare i BRICS non può essere bloccata solo tramite la guerra in Ucraina avete visto sanzioni aiuto militare l'Ucraina ha danneggiato l'Europa quello che volevano americani ma non ha danneggiato la Russia quindi bisogna diciamo mettere più focolai di guerra in varie zone e così con queste guerre queste guerre come una specie di blocchi riusciranno a bloccare a mettere in difficoltà lo sviluppo del mondo multipolare perché l'Occidente e le anglosassoni sono in lotta con il mondo multipolare per questo motivo adesso sta uscendo la notizia su Taiwan e sta uscendo anche stanno uscendo tantissime notizie su peggioramento delle situazioni nella Corea Corea del Nord Corea del Sud sono in guerra Pyongyang questa settimana ha pubblicato le foto dell'arruolamento di massa di migliaia dei volontari nelle file dell'esercito popolare nordcoreano vi ho già raccontato la Corea del Nord nonostante un paese piccolo minuscolo rispetto agli altri paesi è il quinto esercito al mondo hanno una capacità di mobilitazione che amici spaventosa loro hanno già effettivi che sono tantissimi perché si parla di 1.280.000 militari effettivi attualmente nell'esercito quelli che con primo fischio primo comando partono a eseguire l'ordine più hanno enorme risorsa di mobilitazione attorno a 6 milioni di cittadini in tutto adesso cari amici 1.400.000 cittadini nordcoreani sono stati già mobilitati entro una settimana io non so se qualcuno di voi qua è in grado di comprendere questi numeri cari amici ma io vi assicuro che mobilitare 1.400.000 esseri umani in una settimana forse non è capace nessun paese del mondo i nordcoreani dimostrano veramente di essere un paese creato attorno all'esercito cioè non esercito creato per scopi del paese è il contrario proprio è un paese che è stato creato attorno alla macchina bellica e veramente loro dimostrano di essere di avere grandi capacità militari un milione un milione e quattrocento esseri umani vuol dire che devono essere collocati devono essere dispiegati nelle basi armati devono essere preparati per le azioni militari impossibile farlo neanche in mesi cioè in Russia per mobilitare centinaia di migliaia di persone non so 200-300 mila persone ci mettono addirittura mezz'anno tre mesi diciamo tre mesi dura la mobilitazione regolare che viene effettuata in Russia due volte all'anno di autunno e di primavera quando vengono rullati nell'esercito i militari di leva obbligatoria e lì si tratta cari amici di qualche centinaia di migliaia di persone non di più qua i coreani amici un milione e quattrocentomila di esseri umani in una settimana è una follia ma esiste questa cosa perché loro hanno possibilità di fare e una cosa da dire su nordcoreani è che nordcoreani ad esempio hanno le forze speciali più numerose del mondo se noi pensiamo di forze speciali di vari paesi in russia in tutto le forze speciali sono riparti speciali punta diamante dell'esercito russo se limitiamo tutti insieme saranno attorno a centomila persone e questo è già tanto riparti militari inglesi tipo SAS inglese dicono che sono al massimo adesso attorno a 50 persone quindi 50 specialisti delta force statunitensi sono circa 2000 specialisti le forze speciali di Pyongyang cari amici di Corea del nord sono 250 militari loro si chiamano SOF le loro forze speciali nordcoreane sono 250 mila effettivi che cari amici sono al servizio effettivo sono persone che si addestrano per tutta la vita sanno usare qualsiasi tipo di arma si preparano per le operazioni molto difficili in qualsiasi situazione 250 mila di specialisti di questo genere immaginate è una cosa allucinante comunque l'esercito nordcoreano dimostra di essere preparato per la guerra quindi la Corea del sud ha provocato Corea del nord ovviamente dietro a insegnamento anglosassone perché Stati Uniti d'America sono stati quelli che per lo più hanno partecipato a questa provocazione cosa hanno fatto hanno mandato i droni hanno cercato di suscitare diciamo preoccupazione dei coreani del nord e hanno raggiunto questo livello Corea del nord ha mobilitato 1 milione 400 mila militari in più hanno 1 milione 280 effettivi quindi adesso l'esercito di Pyongyang ha superato 2 milioni e 600 mila persone quasi 2 milioni e 700 mila persone e l'agenzia nazionale del Corea del nord che si chiama Corea Central News Agency ha diffuso stamattina la dichiarazione di leader nord coreano lui ha parlato di una guerra una preparazione alla guerra lui ha detto la volontà di punire la fecia della Corea del sud che ha violato la sovranità e la sicurezza della nostra sacra repubblica popolare regna in tutto il paese in caso di guerra la Corea del sud verrà distrutta poiché vuole la guerra siamo pronti a porre fine alla sua esistenza quindi cari amici non ci sono tante traduzioni per capire che cosa sta succedendo adesso nella Corea del nord vi ricordo che l'esercito della Corea del nord ha fatto saltare anche in aria due tratti di strada che portano la Corea del sud le esplosioni sono avvenuti sul territorio nord la prima collega la città di Kaosong a nord con la sud coreana Paiu a ovest e la seconda si trova nell'est del paese l'esercito sud coreano non è stato danneggiato in questa operazione però ha iniziato subito a cercare di dimostrare la propria prontezza di affrontare queste situazioni ha sparato anche con i cannoni ha fatto una dimostrazione che loro hanno gli obici insomma cari amici siamo a una escalation pesantissima gravissima nel settore e ovviamente anche recentemente dichiarazioni di Zelensky che i coreani partecipano alla guerra contro Ucraina sul territorio dell'Ucraina dalla parte della Russia sono legati alla necessità di regime di Zelensky di attirare l'attenzione dei propri padroni occidentali a ciò che lui fa a ciò che lui esegue sul territorio dell'Ucraina perché lui vorrebbe continuare a ricevere i soldi da parte dei suoi padroni occidentali questa è la situazione gravissima si tratta dell'ennesima escalation dell'ennesima guerra che il mondo occidentale che gli oligarchi anglosassoni creano in giro per il mondo perché loro non vogliono che il mondo multipolare diventa sempre più potente sempre più interconnesso vediamo cosa succederà più avanti con questo cari amici vi saluto come sempre alla fine dei miei video vi invito di informarvi in maniera obiettiva su ciò che sta succedendo non solo sul territorio dell'Ucraina ma anche in giro per il mondo nella situazione geopolitica nella scacchiera della grande strategia politica io condivido sul mio canale privato telegram di solito le notizie che vengono normalmente nascoste strumentalizzate oppure censurate del nostro mainstream occidentale corrotto se volete abbonarvi al mio canale privato telegram il link per abbonamento si trova nella descrizione a questo video se volete seguirmi qua su youtube come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale di commentare i miei video condividere i miei video con i vostri amici vi ringrazio per la vostra attenzione per le vostre preziosissime opinioni per i vostri commenti e per le vostre donazioni tutto questo è molto importante per me e per il mio lavoro su questa piattaforma online vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene